12 aprile 2012, 55esima sinfonia del Papa dal 2009 oggi, siamo a Edelberg, a Edelberg in Baden-Büttelberg. Niente, ovviamente qui gli stipendi sono il doppio che in Italia, il costo della vita credo che sia la metà, l'autostrada ovviamente è gratuita, mi sono fermato qui in questo posto, in video realtà, solo per dimostrare, perché io tutte le volte che vado via vado sempre a vedere una cosa, che sono le agenzie di viaggio. Nell'agenzia di viaggio capisco molte cose dell'Italia, la classica agenzia di viaggio in Germania, Brasile, un po' l'iteriasco romantico, Brasile 14 notti, Brasile 14 notti, un po' più lontano, spiego così. Brasile 14 notti, Rio de Janeiro 979 euro, 22 giorni a San Francisco, volo compreso 1799 euro, Guatemala 319 euro, 17 giorni a Thailandia, Bangkok, volo compreso 1200 euro, 1249 euro, California, California, 3 giorni, 2 notti, 344 euro, Australia, Italia, 7 notti, 7 giorni, 6 notti, 590 euro, giro nel mondo, Germania da Francoforte, Guatemala, Lima, Sudafrica, Sudafrica, Johannesburg, da Johannesburg a Bangkok, da Bangkok a Francoforte, 2034 euro. Grazie a tutti, grazie a tutti.